Dopo appunto 42 anni di servizio nel mondo della scuola lo Stato ha deciso che devo andare in pensione. Io sarei andata ancora avanti però vado. Allora, 42 anni di servizio e 26 anni al Benelli. 16 anni come docente e 10 anni come dirigente. Quindi io il Benelli è la mia scuola, per carità sono stata anche in altre scuole, ma il Benelli è la mia scuola in cui credo tantissimo e che ho scelto ogni giorno. Non ho mai chiesto il trasferimento, quindi l'ho scelto, l'ho riscelto ogni giorno e ogni anno. Però andare in pensione non significa, come dicono molti, andare in quiescenza. O meglio, quiescenza nel senso che poi uno non fa nulla. E io continuerò a stare a servizio della scuola in qualche modo, della scuola in generale sto parlando. Quindi non penso di fermarmi perché il patrimonio di competenze che ho acquisito nella scuola, in particolare in questi 26 anni di Benelli, in cui ho dato tanto, mi ho ricevuto molto di più. Perché veramente ho ricevuto molto di più. Questo patrimonio dovrò continuare a spenderlo, è un dovere morale. Quindi, va bene, dal primo settembre andrò in pensione. Quindi, va bene.